Gentili amici della provincia grande di Cuneo 24, tutti ben ritrovati e buonasera. Questa volta possiamo dire di essere in alta pressione, circa 1024 misurata alle 16 la pressione qui in Riviera, ma senz'altro sarà così anche nella zona di Cuneo e direi che questo valore potrà mantenersi almeno fino a tutto lunedì o martedì con un breve cedimento e nella giornata di domenica, quando magari ci potrà scappare un po' di instabilità pomeridiana, ma solo sui monti, neanche in pianura e ne in collina tanto meno. Quindi parliamo di bel tempo, sereno o poco nuvoloso al mattino, qualche nuvola in più nel pomeriggio, anche qualche velatura, ma proprio a fare i pignoli. Lo zero termico tra 3.900 e 4.000 metri, un po' di vento meridionale intorno sud-sud-ovest fino a 30 km all'ora e quest'oggi la temperatura è stata notevole. In pianura abbiamo misurato fra 25 e 27 gradi. Vediamo domani, al mattino, sereno, qualche velatura ancora. Nel pomeriggio ecco che si costruiranno dei cumuli nelle zone interne, ma raramente potranno portare a qualche piovasco, a qualche sgrullone di pioggia sui viandanti delle nostre Alpi Marittime e Cozzie. 3.800-3.900 la quota dello zero termico, un po' di vento questa volta più occidentale da ovest fino a 40-50 km all'ora sulle creste, la minima notturna in pianura tra 14 e 16 gradi, la massima del pomeriggio stazionaria, bella, placida, fra 25 e 27 gradi. Vediamo adesso domenica. Allora domenica magari ancora sereno al mattino, ma nel pomeriggio ecco che costruirà qualche cumulo piuttosto ben formato sulle nostre Alpi Marittime, Liguri e le Cozzie, quello del giro delle Alpi più occidentali e questa volta i piovaschi o i brevi temporali saranno qualcuno di più. Rinforzerà il vento questa volta settentrionale, tramontana o un po' di lombarda lì sulle zone del Mercantur e magari potrà andare anche a 50 km all'ora come velocità massima. Nel pomeriggio, ve l'ho detto, dei locali temporali, 3500 metri, questa volta il valore dello zero termico, la temperatura minima sarà in lieve calo di 2 gradi in pianura tra 12 e 14 e caleranno anche le massime con questa tramontana, fra 20 e 22 gradi in pianura. Terminiamo con lunedì quando mettiamo da parte questa instabilità della domenica, sereno o poco nuvoloso, 3600 metri, il valore dello zero termico e temperature in aumento. È tutto, buonasera.